La consulta europea organizza con l'Istituto Universitario di Studi Europei, IUSE, un corso di formazione rivolto agli enti locali sulle opportunità offerte dall'Unione Europea. Prossimi appuntamenti in provincia di Torino, Villa Franca, 13 e 15 ottobre, Ivrea, 27 e 28 ottobre, Reano, 21 e 28 ottobre, Brandizzo, 10 e 12 novembre.